Sempre in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, la chef Ale Gambini ha presentato in streaming il suo libro No Ketchup on Spaghetti, The Complete Guide on How to Shop, Eat and Cook like an Italian, alla presenza del console di Los Angeles Silvia Chiave e della direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura Valeria Rumori. Ascoltiamo Ale Gambini, ambasciatrice del cibo italiano a Los Angeles. Grazie a tutti, grazie a tutti e benvenuti alla settimana della settimana Italia Cuisine 2020, Los Angeles edizione. Questo anno ci siamo festeggi con molti eventi virtuali, ma interessanti, in una festa molto grande con un menù in honor dell'italiano vita. Now, with her book No Ketchup on Spaghetti, our guest tonight, Alessandra Gambini, Ale Gambini, does precisely that. She tries and orientes in the entire process of shopping, cooking and eating like a real Italian. First of all, thank you for having me. It's such an honor to be here as a part of the fifth week of the Italian Cuisine in the World. So, thank you again. Si è appena conclusa la quinta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo qui a Los Angeles. Una settimana ricca di eventi organizzati dal Consolato Generale d'Italia in Los Angeles e dall'Istituto di Cultura Italiana. Tra i vari eventi abbiamo visto videoricette realizzate da italiani famosi che risiedono in LA, come Alessandro Del Piero e Elisabetta Canalis. C'è stato poi il Gelato Festival, Webinars. E tra i vari webinar c'è stato anche il lancio del mio nuovo libro intitolato No Ketchup on Spaghetti, The Complete Guide on How to Shop, Eat and Cook Like an Italian. Questo è il secondo libro che scrivo, dopo A Queen in the Kitchen, un libro dedicato alla cucina italiana del nord Italia. Ho voluto dedicare un libro alle eccellenze italiane, a come saperle riconoscerle, che cos'è l'Italian sounding, e una serie ovviamente anche di ricette nelle quali ho utilizzato i migliori prodotti della tradizione agroalimentare italiana. Il libro è in prevendita ma uscirà ufficialmente il 14 dicembre 2020. Un saluto da Ale Gambini e Queen in the Kitchen da Los Angeles.